Si è consegnato lui stesso ieri pomeriggio quando ha capito che di lì a poco i poliziotti sarebbero andati a prenderlo. Erano sulle sue tracce già da martedì. Nella notte tra lunedì e martedì scorso l'uomo in questione ha coltellato una donna e un uomo vicino alla porta Napoli a Taranto. Si tratta di un 49enne tarantino denunciato in stato di libertà per lesioni volontarie aggravate. Lo stesso uomo ha permesso inoltre di trovare l'arma del delitto, un coltello seramanico che era stato abbandonato in via Garibaldi.